Se avete voglia di giocare un po' con i vostri bambini potete preparare un acicerchiato degli struffoli tutti belli colorati, con che cosa? Con della semplice panna e farina e poi ovviamente dei colori naturali alimentari. Per questa preparazione vi occorre 300 ml di panna, 400 g di farina, coloranti alimentari, olio per friggere e miele. Veniamo alla preparazione. Versate in una ciotola la panna e unite la farina poca alla volta. Prima di formare un panetto compatto, dividete l'impasto in 4 o più porzioni o 3 secondo i colori che avete, nella quale poi andrete a versare i vari colori. Finite di impastare ogni panetto con la farina necessaria, ricavate dei filoncini da rullare sulla spianatoia, tagliate poi tanti piccoli gnocchi e friggeteli in abbondante olio di semi di girasole bollente. Scolarli poi sulla carta assorbente. Intanto facciamo sciogliere il miele su una capiente wok, versiamo gli gnocchetti fritti e li facciamo amalgamare bene al miele. Se gradite potrete aggiungere anche dei confettini colorati, delle mandorle, delle scaglie di mandorle o magari anche dei canditi. Versate il composto finché caldo nei pirottini e servite. Se avete voglia di giocare un po' con i vostri bambini potete preparare un acicerchiato degli struffoli tutti belli colorati, con che cosa? Con della semplice panna e farina e poi ovviamente dei colori naturali alimentari. Per questa preparazione vi occorre 300 ml di panna, 400 g di farina, coloranti alimentari, olio per friggere e miele. Veniamo alla preparazione. Versate in una ciotola la panna e unite la farina poca alla volta. Prima di formare un panetto compatto dividete l'impasto in quattro o più porzioni.